Benvenuti, bentornati. Se avete già ascoltato i miei podcast vi invito ad iscrivervi, lasciare un like, un commento e partecipare attivamente ai miei podcast. Parliamo dell'arte greca e la ricerca della perfezione. La Grecia è il luogo da dove tutto ha inizio. E' impossibile quindi effettuare una ricerca artistica che prescinda da questo luogo, da cui l'uomo osserva per la prima volta la natura con il desiderio di conoscerla nel profondo, di carpirne le modalità, i principi, iniziando il processo che ancora oggi non è stato concluso, ovvero quello dell'imitazione. In Grecia e nell'Egeo, a partire da 40 secoli fa, il pensiero va di pari passo con la tecnica. Quindi si devono porre le basi per comprendere la cultura artistica e non solo dell'intero mondo occidentale. Andiamo a individuare il periodo di formazione o periodo geometrico, che va dal XII al VIII secolo a.C., il Medioevo ellenico. Costituito è dall'arrivo dei Dori e dalla fondazione delle prime città, figura umana e poco rappresentata o in forma elementare. Il periodo arcaico, dal VII secolo alla fine del VI secolo a.C., si inizia la costruzione dei primi templi e la figura umana inizia ad avere una sua rappresentazione. Il periodo classico, dal IV secolo al 323 a.C., definito l'età dell'oro dell'arte greca. Il periodo ellenistico, gli anni dalla morte di Alessandro Magno e dell'occupazione della Grecia da parte dei Romani, con la fusione di stili e culture. Per quanto riguarda, quindi, la nascita della scintilla che porta a generare la civiltà egea, dobbiamo andare a ritrovarla nel Mediterraneo, nel gruppo di isole felici che sono al crocevia dei flussi, che provengono dall'Egitto, dalla Mesopotamia, dalla Fenicia e che si spingono fino alle coste occidentali dell'Africa, della penisola italica e di quella iberica. Perché vengono definite isole felici? Perché chi le abita non impugna le armi, vive di pesca, di scambi, di artigianato e sono ricche di materie prime come il rame, il marmo e l'argilla. Nelle cicladi troviamo le più antiche testimonianze di questa prosperità. Gli uomini danno forma concreta ai pensieri attraverso piccole statue, gli idoli, che riproducono corpi umani in modo stilizzato ma efficace, fertili e tondeggianti corpi femminili, semplici volti e figure intente in specifiche attività, come il noto suonatore di lira che viene raffigurato in posizione seduta mentre imbraccia il suo strumento musicale. Sono statue destinate alla devozione privata e a culti propiziatori che testimoniano come la pace e il benessere favoriscano anche lo sviluppo della cultura e delle arti. La più ricca e felice delle isole egee è Creta. La più grande, costituita in una posizione geografica più favorevole alle rotte commerciali, diventa una potenza marittima dotata di una flotta in grado di attraversare l'intero Mediterraneo. Una potenza pacifica le cui navi non trasportano armi ma ricchezza attraverso grano, manufatti e olio. A partire dal 3000 a.C. si raggiunge un livello altissimo per la lavorazione dell'argilla e delle tecniche della cottura. Nasce proprio a Creta, quindi la ceramica, che verrà esportata in tutto il mondo allora conosciuto. A partire dal 2000 a.C. sorgono i grandi palazzi o le città-palazzo. La più celebre è quella di Pnosso, legata al mito del re Minosse e dell'architetto Degalo. Sono costruzioni complesse, estese, che hanno dato vita al mito del labirinto e che racchiudevano le attività amministrative, produttive, alloggi reali, magazzini, laboratori, luoghi di aggregazione e di svago. Architetture dipinte, decorate con colori vivaci, con immagini geometriche e floreali, figure umane in vesti preziosi o impegnate in mirabolanti imprese ginniche, come il salto sul toro in corsa. Il celebre affresco, iracleon, che troviamo nel Museo archeologico, Tauromachia. Architetture che hanno un'estensione planimetrica importante, ma hanno un'eccessiva elevazione e che non sono chiuse da mura difensive. Quindi si vive in pace con le altre città e anche con le altre civiltà. Anche sulla terraferma, nella Grecia continentale, assistiamo attorno al secondo mellegno. Alla presenza degli Achei, che provengono dall'est e si insediano nel Peloponneso e danno vita a un'altra civiltà, diversa. Sono guerrieri, sono conquistatori, abili nel lavorare in metallo e costruttori eccellenti di armi. Le loro città sono rocche fortificate, costruite su alture da cui è possibile avvistare i nemici, circondate da mura possenti, dalle quali nasce il mito dei ciclopi. Tra le varie città fortezza troviamo Micene. Due luoghi significativi all'interno di questi complessi sono il megaron, la sala del trono e delle udienze, con lo spazio per il sacro focolare, circondato da colonne, e la necropoli, la città dei morti, le cui architetture imponenti testimoniano l'importanza del culto dei defunti. La tendenza alla conquista della civiltà micenea porta a quest'ultima anche a inglobare quella cretese, già in declino, a causa di catastrofi naturali intorno al 1000 a.C. Questa fusione sarà la base della formazione della cultura e dell'arte greca. Bene, per quanto riguarda questo podcast è tutto. Vi invito a mettere like, commentare e continuare a seguire questi episodi.